Leon! Leon! Stai bene! Grazie. Le cose si mettono male. Montano. Ti amo! Chris, ascolta. Devi salvare due ostaggi da un pozio petrolifero su Bacchia. Agente Sherry Birkin e Jake Moon. E il figlio di Albert West. Presca! Chris, ha sviluppato gli anticorpi per i virus. Ricevuto. Vado subito. Bene, grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morto. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te. Non deludere. Tutto ok. Troviamo i sopravvissuti e andiamocene subito. Ecco, QG. Ci sentite? QG, ecco. Parlate. Ehi! Che diavolo state facendo laggiù? Dobbiamo scombrare! Andiamo! Abbiamo rilevato tracce di virus C nel gas. Sembra? Andiamo a cercare gli sfollati sopravvissuti. Aspetta. Vogliamo aiutare. E va bene. Andiamo. Qua! Lontano dal gas. Deviamo verso la torre quadra. Sperate! Fuoco! Di qui! Stai bene? Come va là fuori? Non vedo che un mare riguarda. E le cose peggioreranno. Andiamo alla torre quadra per assistere gli sfollati. Vuoi un passaggio? Abbiamo un veicolo. Dietro di me! Merda! Fuoco! Aspetta! Aspetta! La sto aprendo! Andiamo! Andiamo! Bene! Via! Avanti! Ci penso! Dov'è il veicolo? È qui fuori! Via! Via! Presto! Elena! Ok! Non guardatevi indietro! Andate! Merda! Buona fortuna! Bene! Reggetemi! Da dove viene la cenele? Forse dal missile. UG a Charlie. Cambio programma. L'accesso a TACI è proibito. Ritiratevi e attendete ordini. Cosa? La squadra ECO è ancora lì. Dobbiamo aiutarli! Ritirata! È un ordine! Non possiamo perdere altri uomini. Diavolo! Ci circonderanno! Andiamo! Ho capito! Non so! Ma chi è il suo baraccio? No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Squadra E, corrispondete! C'è nessuno?